Occhio al vero significato del lavaggio biologico e a tutti i programmi che si richiedono ad una lavatrice perfetta. Lava Matai Ghe, costruita in Germania, ha ora nuovi diversi programmi biologici. Qualsiasi macchia scompare completamente. Lava Matai Ghe è munita di spillstop per non sgualcire gli indumenti delicati, ha programmi per ammorbidire, inamidare e profumare. Lava Matai Regina è clara e lavatrici con il nuovo lavaggio biologico e la garanzia di tre anni. A e Ghe, simbolo mondiale di qualità.